In un mondo più incline a rivendicare che a servire, occorre un costante cammino di umanizzazione. Non basta contenere le guerre, sospendere le lotte, bisogna tendere a una pace amata, libera, fraterna, fondata cioè sulla riconciliazione degli animi. Papa Francesco ha pronunciato parole chiare intervenendo al Consiglio d'Europa nel corso del suo viaggio apostolico a Strasburgo. Purtroppo ha riconosciuto la pace ancora troppo spesso ferita in tante parti del mondo, persino in Europa, dove non cessano le tensioni. La pace però è provata da altre forme di conflitto, quali il terrorismo religioso e internazionale che nutre profondo disprezzo per la vita umana e miete in modo indiscriminato vittime innocenti. Tali fenomeno è purtroppo foraggiato da un traffico di armi molto spesso indisturbato. La Chiesa considera che la corsa agli armamenti è una delle piaghi più gravi dell'umanità ed annescia in modo intollirabili i poveri. La pace è violata anche dal traffico degli esseri umani, che è la nuova scravitù del nostro tempo e che trasforma le persone in merce di scambio, privando le vittime di ogni dignità. Invitando l'Europa a non dimenticare il proprio passato, perché per camminare verso il futuro occorrono memoria, coraggio, sana e umana utopia, il Pontefice ha indicato due sfide, quella della multipolarità e quella della trasversalità. È importante, ha chiarito Papa Bergoglio, creare un'armonia costruttiva, libera da egemonie, così come coltivare un dialogo aperto, sincero e non chiuso al pensiero che sempre deve rifiutare la globalizzazione dell'indifferenza, indifferenza al valore della vita, ai poveri, alla disoccupazione, soprattutto quella giovanile, una vera ipoteca sul futuro. Dal individualismo indifferente nasce il culto dell'opulenza, cui corrisponde la cultura dello scarto nella quale siamo immersi. Abbiamo di fatto troppe cose che spesso non servono, ma non siamo più in grado di costruire autentici rapporti umani improntanti sulla verità e sul rispetto reciproco. E così oggi abbiamo davanti agli occhi l'immagine di un'Europa ferita per le tante prove del passato, ma anche per le crisi del presente, che non sembra più capace di fronteggiare con la vitalità e energia di un tempo. Grazie a tutti.